Ciao, benvenuta! Vedo che hai trovato la stanza della bellezza. Fammi indovinare, il rosa non fa per te. Oh, devo essere all'inferno. L'Accademia del Bene e del Male ha bisogno di grandi eroi e malvagi. Ma se siamo nella scuola sbagliata... Non capisci? Io dovrei essere una principessa! Guardatemi! Vi sembro forse una strega? O se c'è stato un errore e volessimo tornare a casa immediatamente? Il Bene non dorme con il male. È la responsabile e sono nella scuola sbagliata. Che cosa triste e improbabile. Stai dietro. E se avesse commesso un errore? Se le avesse lasciate nelle scuole sbagliate! Sta succedendo qualcosa di brutto. Sono stanca di essere la patetica piccola Sophie. Devo tirarti fuori da te. Ho tutto sotto controllo. Io non credo proprio. Una principessa non può essere amica di una strega. È il male che ti controlla! Mi piace la nuova mente. Sophie, sono tua amica. No, sei la mia Nemesi. No, sei la mia. No, sei la mia. Che p y a è. Grazie a tutti.